Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e Vivio per la variante di Valico in direzione Bologna. Sulla Fipili in direzione mare rallentamenti per traffico intenso tra Firenze e Viadotto dell'Indiano e Scandici e rallentamenti per materiali dispersi tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco. Sulla Fipili per lavori tra Firenze e Firenze Scandici in direzione mare restringimento di carreggiata. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in prunita. Sulla regionale 69 Valdarno senso unico alternato per lavori al chilometro 1,700 nel comune di Pelago. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!